Una designer dei gioielli è una che crea, crea un qualcosa di innovativo, può piacere o non può piacere, ma devi creare, deve essere una creativa. Oggi io sto lavorando con lo smalto. Questi sono i smalti che si applicano sul gioiello, specificamente sul metallo. Il metallo può essere argento, può essere oro, acciaio, non so. L'artista è quello che usa la testa e soprattutto il cuore quando crea un qualcosa, quindi diciamo che è un po' tutto. Bisogna essere un po' tutto per essere una designer.